Il tempo è essenziale. Il tempo è l'elemento fondamentale dell'interpretazione. Non si può cominciare senza di me. Io avvio l'orologio. Ma al contrario dell'orologio, a volte la mia seconda mano si ferma. Il che vuol dire che il tempo si ferma. La realtà è che è solo quando decido nuovamente di alzare quella mano che al tempo viene permesso di continuare marciando il suo esatto, allegro passo. Aaaaaah! 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 Aaaaaah!